buongiorno signori oggi ho una bellissima offerta da comunicarvi però prima una notizia ulteriore allora la lezione 13 del corso base di scrittura ho deciso come ho fatto con qual era quella dei dialoghi non mi ricordo più ho deciso di ampliarla di un 50 per cento abbondante per cui invece di uscire oggi uscirà credo lunedì ok ne vale la pena perché prima aveva già degli esempi legati romanzi storici adesso li ho incrementati utilizzando anche degli esempi magari molto vicini al mercato editoriale italiano quindi esempi con gli antichi romani verificando l'uso di certe parole in romanzi pubblicati ambientati nell'antica roma e cose così poi lì non vi ho citato ovviamente tutte le fonti le altre cose ma vi ho messo le spiegazioni poi che appassionati romanzi storici un certo tipo può andare a verificare e vedere che in effetti certi termini ci sono c'è altri altri magari vengono risico in italiano moderno cosa abbastanza interessante insomma dipende anche da cosa scrivete comunque la lezione sarà lunedì credo almeno di non avere problemi di registrazione o altro e anche in forma scritta apparirà lunedì quindi la versione attuale quella super concisa con la parte storica al minimo poi allora oggi ho una cosa interessante per tutti voi c'è un'offerta dura fino al lunedì 31 agosto ok e sono interessato a non farvela perdere perché perché mi sono accorto negli anni scorsi di una cosa importante che i miei autori imparavano molto di più e molto più in fretta quando potevano accedere a dei testi sicuri cioè dei romanzi scritti in modo preciso secondo i canoni del corso base e del corso avanzato tutte e due per forza perché senza il corso avanzato puoi fare attivamente poco perché col corso base poi dovresti se non è il corso avanzato reinventarti da solo le cose che ho già scoperto io e messo assieme io cioè minimo ci stai 5 10 anni se hai molto molto culo perché ricordate che prima che io producessi il corso avanzato non c'era e quindi non è detto che quello che io ho fatto e che nessun altro ha fatto prima di me voi potete essere in grado di farlo da soli io magari non farei questa scommessa e pagerei per il corso avanzato come non ho fatto questa scommessa quando ho studiato marketing o copywriting e sono andato invece a comprare i corsi a pagare i migliori del mondo e a studiare da loro perché l'idea che io potessi riscoprire tutto ciò che in decenni ha scoperto Dan Kennedy o hanno scoperto altri non mi fidavo così tanto di questa possibilità e comunque meglio prendere scorciatoie andare veloce imparare subito no allora dicevo ci sono dei romanzi che vi possono essere comodi se volete studiare perché mi sono accorto gli anni scorsi che i miei corsisti che partivano da zero poverini senza niente avevano l'esempio sì di alcune opere ma opere non scritte in modo perfetto per scritta abbastanza bene non in modo perfetto intendo anche a livello di scrittura terra terra non solo di di sceneggiatura non so se avete presente a sold ferris lo siamo anche per degli dei 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 ragionamenti sui tagli delle scene sbagliate che ci sono in alcuni punti in particolare in uno cosa di questo genere quindi io facevo magari studiare a sold ferris facevo studiare magari la bozza di caligo prima della pubblicazione 2014 e ma non era abbastanza ok per cui i miei primi autori hanno fatto una gavetta veramente pesante penso a giuseppe menconi giuseppe menconi per arrivare al livello in cui è arrivato ci ha impiegato dal 2013 al 2016 ok 2017 è arrivato al suo massimo livello con sangue del mio sangue con la pubblicazione di sangue del mio sangue quanto ci ha impiegato 13 14 15 16 4 anni 4 anni ok e potete dire ma 4 anni non è tantissimo dipende giuseppe menconi ci ha impiegato 4 anni ma già per esempio simone cora dopo di lui ha avuto problemi diversi ma c'è stata una cosa che l'ha sbloccato e ha ribaltato la sua capacità di scrivere in due tre mesi ok idem adesso mi capita spesso con gli autori nuovi quelli che si sono iscritti al mio corso nel 2019 in particolare tardo 2019 2020 gli dico prendi questo libro che è in vendita prendi quest'altro che è in vendita di solito ne consiglio due studiali ok che vuol dire prima li leggi normalmente ok possibilmente senza bias cognitivi quindi li leggi con l'ottica di dire ok magari a te non piacciono i romanzi con le mummie non importa è studio te lo fai piacere o non ti piacciono gli scarafaggi giganti non importa è studio te lo fai piacere cioè entrare in quell'ottica non ti stai divertendo ok poi probabilmente ti piaceranno lo stesso però l'ottica che stai studiando e se vuoi studiare non puoi essere schizzinoso non è che tu vai a fare giurisprudenza e dici ma no questo esame obbligatorio del primo anno io a me non va non ti fanno laureare ragazzo devi fare gli esami ok comunque dicevo con i nuovi mi sono capitati dei corsisti in particolare uno che sto seguendo adesso che secondo me ha del grande potenziale poi al solito si vedrà cosa succede ma secondo me ha del grande potenziale sia per l'interesse a fare le cose bene a livello storico storia della magia e tutto lavorando un'opera di cui non vi posso dare i dettagli ma un'opera secondo me con delle enorme possibilità in espresse per via di alcune cose che abbiamo deciso di non usare sia delle enormi qualità che esprimerà tramite quelle che ha scelto perché ha fatto un approccio un po più storico e un po meno fantastico però può essere può essere un punto di forza in realtà io avrei fatto l'approccio opposto ma può essere invece un punto veramente di forza comunque dicevo lui era partito in un certo modo scriveva in un certo modo male e poi si è messo serio a studiare sangue del mio sangue il nostro romanzo migliore forse anche la mia vita con le blatte non ricordo mi sembra entrambi e ha rivoluzionato la sua scrittura da un momento all'altro mi sono trovato che poi quando mi ha mandato esercizio successivo pochi mesi dopo lui quel quel capitolo che mi ha mandato pochi mesi dopo in realtà l'ava scritto solo un mese dopo due mesi dopo rispetto a quando mi aveva mandato il primo esercizio che era un disastro e scriveva veramente bene era diventato veramente bravo tant'è che l'ho contattato in privato io ho detto senti tu sei un mio corsista a pagamento eccetera eccetera ma puoi essere interessato a scrivere fantasy perché nel caso ti vorrei seguire gratis quindi gli sto regalando migliaia di euro di consulenze perché abbiamo fatto già parecchi incontri per la pervaporteppa per la possibilità che magari sei in grado di produrre qualcosa pervaporteppa da pubblicare tra due tre anni un anno due anni tre anni facciamo due tre anni perché ormai avendo la distribuzione libreria siamo un pochino più non abbiamo la libertà di una volta di dire fatto pubblicato ecco ci sono delle scadenze tempi editoriali collane distribuzione tutto diciamo però due tre anni se ti metti al lavoro fai le cose bene e può uscire ecco stavo dicendo e questi nuovi autori hanno questa possibilità di prendere questi testi si rileggono prima ok si rileggono poi si ristudiano che vuol dire che la seconda lettura quando già sai qual è la storia l'hai già letta sei già i contenuti ti consenti frase per frase e guardi come è scritta ma non come scritta nel senso qui è mostrato qui c'è il mostrato minimale al posto di fare un raccontato che sarebbe sbagliato qui c'è non queste cose il flusso informativo perché alla fine voi cannate sempre il flusso informativo ovvero gestire i tra virgolette movimenti di macchina che poi non c'è nessuna telecamera e il personaggio la sua vista i suoi occhi e l'attenzione posta in modo meno dettagliata a questo più dettagliata a quello comunicare senza dirlo con il flusso degli elementi poi ci torneremo con una lezione gratuita non vi preoccupate fuori dal corso base ma ci torniamo i movimenti dello sguardo e dell'interesse che ci fanno capire che prima guardava il paimento poi il soffitto poi la parete poi il soffitto gli stessi movimenti di sguardo che ci fanno capire che implicitamente che si sta avvicinando perché aumentano i dettagli di che ne so di un quadro di un dipinto dando dettagli sempre più minuti che palesemente all'inizio quando era dall'altra parte della stanza non poteva notare e noi con questo flusso che si conclude con un movimento che ci fa capire che lui si è messo proprio a pochi centimetri dalla cornice a guardarla capiamo che si è avvicinato è tutto naturale tutta una costruzione del non detto sono le cose che fanno la differenza nei romanzi ben scritti e che se non sapete come si fanno non vi accorgete nemmeno che sono state fatte è quel 90 per cento che senza il mio corso avanzato voi leggete un romanzo e non capite che c'è ed è quello che fa la differenza dicevo facendo questa cosa è possibile imparare molto molto in fretta il percorso che giuseppe menconi ha fatto in quattro anni poveretto senza nessuna possibilità di essere aiutato avevo io io lo aiutavo sì ma non aveva i romanzi d'esempio aveva salt feris per quanto sia buono non è all'altezza dei nostri romanzi migliori poi per contenuti a me può piacere di più per alcune cose ma non è all'altezza livello di scrittura terra terra sempre e la differenza è sia è sempre è il sempre capite se voi avete un romanzo ben scritto ma che degli errorini come può essere non so la serie eternal war ok che a me piace per esempio moltissimo come idee mi piace più di alcuni dei romanzi comportato con vapore teppa a livello di idee fantastiche ma perché una certa sensibilità su un certo approccio al mondo degli spiriti eccetera e se tu leggi quello trovi tante ancora piccole scorciatoie di scrittura piccoli trucchetti piccole cose che non sono scrittura ideale ci trovi le cose fatte veramente bene e le cose fatte un po' meno bene ma se non hai le vere competenze non è veramente imparato non sai dire cosa è cosa e puoi scambiare una scorciatoia me non so nel primo eternal world uso ancora dei le disse due punti biblico che è una cosa che ormai l'autore non fa più ecco e ci puoi magari lo scambi per una cosa giusta ok non puoi avere gli errorini quando sei all'inizio quando ancora non sei formato il testo deve essere completamente giusto perché non puoi trovarti di fronte a qualcosa che un errorino e scambiarlo per giusto ok magari anche un errorino che l'autore ha lasciato dicendo guarda non c'ho sbatta di fare meglio lasciamo sta cosa fatta un po così il resto l'ho fatto bene ciao lui lo sa tu no ok quindi qual è la grandiosa offerta che vi porto vai da fino al 31 agosto solo sul sito di hacker on books quindi la casa editrice che attualmente ha adottato vapore teppa abbiamo questo bel malloppone scusato ortato il portatile scusate qua sangue del mio sangue magari si vede meglio così mi piace a farvi vedere lo scheletro si vede lo scheletro eccolo eccolo qua eccolo qua eccolo qua sotto il logo bellissimo ho fatto la studio circe questa in pagina questa è proprio questa elaborazione grafica delle copertine illustrazioni invece al solito di manuel pretano che ci fa le illustrazioni studio circe poi fa la magia e le tramuta in queste copertine fighissime dietro messo la lanterna la mano è capolavoro bel mattonazzo bel mattonazzo sono oh mio dio sono 450 pagine incluse le indici un po di pubblicità quindi 400 più di 430 pagine mamma mia ricordavo che era lungo però sempre un po impressione vedere con l'impaginazione più professionale che ci fa hacker on rispetto a quella che avevamo noi con con antonio tombini editore quando facciamo le cose in modo un pochino più semplice vedere come come diventano grossi libri noi stiamo un pochino più magrini il testo era un pochino più meno interlinea meno spazi ecco dicevo sangue del mio sangue in regalo se voi comprate su hacker on books due libri possono essere due libri di vapore teppa o due libri di altro tipo magari volete volete che ne so un libro di vapore teppa da studiare sangue del mio sangue in regalo con due libri sangue in regalo ok e qual è il secondo libro per avere sangue in regalo magari dite guarda c'ho già sangue in regalo l'altro coppesso da studio mi prendo uno che non è da studiare ma solo perché mi intriga come argomento ad esempio eternal war sono usciti tre o vanno letti in sequenza però e te ne manca uno o devi partire ti prendi il primo oppure ti intriga uno di quelli che ci sono di horror o un altro così insomma anche senza che sia vapore teppa io mentre vi consiglio che di vapore teppa per lo studio ma quando già ne avete due il regalo più l'altro magari il terzo potete prendere un altro di hacker on books non è che non è che nessuno vi spara cioè considerate che al di fuori dei libri di vapore teppa non è che ci sono altri libri che siano esempi di buona scrittura anche gli autori migliori che ho formato quando pubblicano con altri editori smollano molto a livello qualitativo un po perché non posso aiutarli io un po perché gli attitori non capiscono un cazzo allora loro sbattono si sbattono dieci volte meno fanno un 20 30 40 50 per cento meno bene rimangono comunque tra i migliori del mercato ma non sono più quel livello di perfezione che mi serve come esempi per farvi studiare allora dicevo secondo me potreste prendere sangue ce l'avete in regalo prendendo altri due libri di sangue a posto e questo è importante da studiare ecco vi dicevo prima simone cora l'autore di la mia vita con le blatte che secondo me deve essere uno degli acquisti da mettere ed è due che prendete la mia vita con le blatte molto bello anche questo guardate sempre lo stile la magia che ha fatto studio circe veramente veramente fantastici adoro come sono in libri da quando siamo con hacker on books cioè dal 2019 vorrei averne fatti uscire di più ma tra il covid e tempi editoriali appunto la questione di distribuzione libri non sono più libri come una volta più appunto il covid è stato un casino in generale per cui ho molti meno libri adesso ne sono usciti 4 arrivo a porteppa vorrei fosse andato tutto come doveva andare se abbiamo già stati 8 7 8 facciamo 7 dicevo poteste prendere la mia vita con le blatte che è bellissimo poi cosa prendete allora io vorrei consigliarvi la fine dell'uomo di menconi bellissimo tra l'altro la nuova edizione è vero che la storia è la stessa le scene sono le stesse tutto praticamente lo stesso del vecchio il grande strappo che era l'edizione con antonio tombini editore però la copertina adesso è una ficata spaziale col grande strappo abbiamo fatto un errore con la prima copertina non era esattamente quella giusta quella nuova una bomba e il grande strappo che adesso è diventato la fine dell'uomo un nuovo titolo è meglio anche il titolo rispetto a prima ve l'assicuro è molto meglio questo titolo rende meglio anche un certo senso anche l'altro titolo aveva un certo senso che rendeva ma questo è ancora meglio con la fine dell'uomo ecco non ve lo posso far vedere perché mi dovevano consegnare la mia copia ancora a cartumis a marzo ma non si è fatto non ci sono state altre fiere io non ci ho pensato a farmi mandare una copia perché alla fine le metto in libreria e basta e quindi vi consiglio quello vi metto poi link bellissimo anzi vi metto tutti i link in descrizione di cosa comprare poi uno dice va bene prendo quei due e mi regalano sangue vabbè oppure anche prendere blatte un sangue ti regalano un secondo sangue secondo sangue lo regali a qualche persona che vuoi impressionare male con la scena di quando tirano la milza e fanno la battuta sul pane con la milza ok cose cose belle cose diversamente belle dicevo potete anche dire ma guarda io ne voglio uno diverso oppure voglio fare un terzo libro e poi ho sangue gratis e voglio fare un terzo libro così pago più di 29 euro perché quei due libri sangue e blatte farebbe 28 e 50 ma la spedizione gratis è da 29 quindi se tu prendi solo quei due mi sembra che paghi zero di spedizione non ricordo e tu dici ma che pago zero di spedizione a fare guarda io mi prendo anche streghette che a livello di tagliere le scene non è sempre perfetto ma giusto in un punto c'è un'incertezza che non non mi fa impazzire perché è cinematografica poi nel mio corso vi spiego queste differenze e tutte queste cose belliato sangue tanto streghette nuova edizione acron anche qui non so se ricordate la vecchia con antonio tombi editore la nuova acron è bellissima nuova illustrazione di manuel pretano e tutto il lavoro grafico dello studio circe che ha lavorato molto sull'uso dei corvi sullo sfondo ha fatto la sua solita magia fantastica e questo per dire 14 euro diventano mi sembra 13 euro su acron books quindi invece di dire se io di spedizione ne paghi 13 la spedizione gratis ti sei preso streghette la mia vita con le blatte la fine dell'uomo il regalo sangue del mio sangue c'è tutto i libri tutti i libri di va portepo usciti per adesso per acron books poi uscirà dovevo uscire a marzo e è stato pesante per me che non fosse uscito perché abbiamo fatto veramente un grosso lavoro a livello di applicazione della teoria sull'uso dei coprotagonisti uno con un percorso eroico che va l'altro con un percorso eroico che non va e quindi questo crea una tragedia scampata per un pelo c'è un'ottica presente arma letale con protagonisti lì entrambi hanno arco eroico parallelo qui c'è uno sfasamento che a tutti gli effetti corrisponde a una semi tragedia cosa che poi trovata nel corso avanzato a me serviva che uscisse perché lo citavo nelle lezioni e quindi ci ho avuto alcune lezioni bloccate che non uscivano perché mancava l'opera infatti poi lo modificate perché adesso uscirà a gennaio non è che posso non far uscire mai queste lezioni è una lezione anche importante su tragedie alterne finali struttura e finali alternativi per le tragedie quindi per dire tragedia scampata per un pelo altre cose è una cosa importante insomma e poi a breve uscirà un'altra grande opera con i metallari a venezia e il rito e l'arrivo sulla terra del dio del meta una cosa che fa morire di marco crescizza l'autore di alieni coprofagi che non è ancora stato adottato in hacker on books quel volume non so se lo adotteremo perché un volume che per le librerie che sono molto chiuse bigotte problematiche cioè magari ti mettono i romanzi porno cose simili ecco ma ma non ti metto una cosa con la cacca se fa cose cose italiane non so se se pensate allo sceneggiato boris le cose che vedete lì dentro sono ancora realtà anche nei tuoi italiana certo modo di pensare e quello quindi non so se lo porteremo perché si potrebbe fare il sole book il cartaceo un problema magari lo lasciamo dov'è tanto lo trovate comunque in vendita quei soldi non arrivano a hacker on books o amen dicevo quindi avete questa possibilità solo fino al 31 agosto cioè lunedì vi comprate due romanzi qualsiasi o più vi regalano sangue nel mio sangue potete lanciare scusate un po di tosse potete lanciarvi a studiare subito magari col solo corso base ma provate lo stesso ad applicare quel metodo che vi ho detto di seguire il flusso informativo studiare i movimenti dei sensi vista udito state molto attenti come arrivano i suoni come vengono usati gli altri tenti gli altri sensi il tatto che è l'udorato state bene attenti queste cose finché non imparate cosa dovete vedere non potete vederle ok quindi col corso base qualcosa lo coglierete quando finalmente farete il corso avanzato che vi consiglio di fare prima possibile coglierete il resto anche se io vi ricordo che c'è il pericolo che se studiate quei libri in modo attento senza aver fatto il corso avanzato potreste in alcune cose incappare in degli Einstein lunga è una forma di bias cognitivo anche di queste cose dei bias cognitivi come funzionano come funziona la memoria come funziona la nostra mente e come agire con procedure precise per evitare il più possibile Einstein lunga altri bias cognitivi non potete evitarli del tutti ma potete perlomeno risolvere diciamo una buona fetta di questi problemi evitando che capitino sono cose che insegnano il mio corso avanzato proprio perché vi devo dare i mezzi per studiare tutte le opere finché volete e però anche vero c'è c'è qualcuno di questi problemi però sai poi magari fate il corso base vi leggete quei libri poi magari dopo fate il corso avanzato resettate la vostra mente lo fate a mente completamente aperta ristudiate quei libri con le nuove conoscenze stando bene attento ai vostri Einstein lunga ai vostri bias cognitivi l'installazione serve la prima soluzione la prima stronzata che per un errore di processo mentale vi è venuto in mente avete scambiato per un pensiero corretto chi di voi ha studiato ha fatto il corso learning how to learn di barbara e cli è quello che si trova gratuito nel sito dell'università della california cioè fornito all'università della california e si trova sul sito vi metto il link al learning how to learn nell'info box magari chi ha fatto quel corso sta di qua sto parlando lì vi spiega cosa è un Einstein lung e niente quindi io vi consiglio di prendervi questi libri vi beccate il bel regalo è solo fino al lunedì 31 agosto tanto le spedizioni sono ripartite infatti non ve l'ho segnalato prima che fino al 25 agosto hacker non faceva le spedizioni adesso sono ripartite avete questi ultimi giorni ordinatelo prendetelo studiatelo vi aiuterà e vi permetterà di avere se vi impegnate se fate il corso base al meglio se fate anche il corso avanzato o anche senza aver fatto il corso avanzato comunque avete un enorme vantaggio vi permetterà di fare in un decimo vi dico senza problemi un decimo del tempo quello che ha fatto menconi perché l'ho visto ho visto il passaggio di simone cora prima e dopo questa pratica ho visto il passaggio di alcuni miei corsisti più di uno perché ne ho selezionati già due e c'è un altro che ha avuto notevoli miglioramenti in pochissimo tempo ho visto in due mesi tre mesi persone fare il percorso che altri autori che ho formato con lo che ho formato prima quando non avevo queste possibilità questi esempi hanno fatto in nel tempo normale dovendo scoprire dovendo applicare le cose da soli quattro anni tre anni quattro anni sono 48 mesi due anni sono 24 mesi 24 mesi già 12 volte due mesi quindi risultati di 24 48 mesi in due tre mesi ed è molto più di dieci volte ragazzi quindi vi dico 5 10 volte più veloci ma sto usando una stima prudenziale va bene questo è quello che dovevo dirgli lunedì se riesco esce la lezione quindi se non ci sono temporali se non mi viene non mi va via la voce per perché c'ho la tosse c'ho fastidi registro male per qualunque altra cosa insomma se non ci sono casini particolari lunedì vi esce una bella lezione saranno penso 25 30 minuti 25 minuti mi che li facciamo tutti su termini tecnici con un occhio molto attento romanzi storici e unità di misura è un problema c'è un accavallamento tra di due problemi unità di misura e termini tecnici di ambito storico o di ambito tecnico che ne so ambito armi armature cose vi faccio esempi con armi armature perché sono facili da capire ve li facevo con la con la storia della birra era un casino infatti ve lo cito anche nella lezione potevo farli con quelle ma devo mettervi così tante spiegazioni che non ci capivate una ceppa quindi bene così lunedì prossima lezione poi il ritmo delle elezioni probabilmente calerà adesso stavo facendo due tre video a settimana probabilmente scenderò su 12 video a settimana vorrò partire voglio partire in realtà in autunno con le live per farvi fare domande magari fare piccoli esercizi ma devo pensarci perché ho anche imparare live con i clienti premium e voglio che i clienti premium facciano cose che voi non potete fare quindi magari sanno anche live tipo un po diverso si sanno sicuramente tipo un po diverso dobbiamo esattamente decidere come e niente quindi ci si becca penso lunedì voi andate nell'info box ok seguite i link compratevi due romanzi qualsiasi che volete vi ho consigliato la mia vita con le blatte e la fine dell'uomo poi se volete ci mettete anche streghette vi arriva il regalo anche sangue di mio sangue ok buona lettura buono studio e alla prossima